Salvo altri colpi di scena, il mercato infrasettimanale domani mattina dovrebbe trasloccare dal piazzale dello stadio a Valle. Le postazioni degli ambulanti saranno collocate per lo stradone a ridosso del quartiere, per favorire l'insedamento dei commercianti venerdì mattina. Prima del dietrofront erano stati affissi dei cartelli con il divieto di sosta. Dei cartelli però stamane non vi erano tracce. Il mercato, almeno secondo le decisioni assunte nel corso del sopraluogo effettuato venerdì mattina da Digos, Prefettura, Polizia Municipale e responsabile della Confesercenti a Vellino, dovrebbe trasferirsi a Valle domani 2, sabato 6 e martedì 9 luglio. Il trasferimento si è reso necessario per i motivi di sicurezza e ordine pubblico legati all'evento delle università di Gavranno Sede presso lo stadio Partenua e il Palo del Mauro. I residenti di Valle si dicono pronti ad accogliere il mercato, qualche inevitabile dubbio però sull'organizzazione dell'evento. Contandissimo, magari vediamo qualche cosa qua, qua non si vede niente, vedete? Magari vediamo un po' di movimento, gente, non so, un vice delle persone. Anche l'occasione per fare spiega? Anche questo, anche questo. Se c'è qualche cosa di buono lo compriamo, per carità, non è perché ci facciamo dietro. Però per lei ben venga che ci sarà più movimento. Ecco, contandissimo che c'è più movimento tutto. E questo è. Non aspettiamo una cosa di nuovo, è tutta un'altra cosa, un po' di, come ti devo dire, un po' di movimento. La gente che va e viene. Ben venga per Valle. Ben venga per Valle, esatto. Eh, certamente siamo pronti, però sarà un po' confusionario, perché è la prima volta, e quindi tutte queste persone che vengono, quindi sarà un problema gestirle. Poi non vediamo i bagni, quindi queste persone dove andranno? Quindi sarà un problema enorme su questo. Il primo giorno sarà un rebus. Sarà un rebus, anche per noi, perché è la prima volta che si verifica un evento del genere, un evento abbastanza grande, perché sono parecchi, e quindi poi ci sono i residenti con le macchine, certamente non è che è facile spostare le macchine e portarla altrove, quindi domani mattina vediamo e poi ci rendiamo conto, insomma, come va la situazione.